Iolanda Lotta Il significato di questo incontro, l'amministrazione ha voluto questo momento come momento culturale ma anche come momento sociale e di etica per far sì che altre mostruosità giuridiche come quella subita da Tortola non abbiano più a ripetersi. Sì, Francesca, la senatrice, ho avuto il piacere di conoscerla oggi e proprio in queste lettere c'è il grido d'aiuto di Enzo Tortola che gli dava la sua innocenza alla compagna Francesca. E in queste lettere c'è tutto il dolore di questa ingiustizia fatta verso Tortola. E niente, nel sentire la senatrice Scopellitti abbiamo notato tutto l'amore, tutta la passione. Il pathos proprio. Sì, sì, che diciamo si sente proprio di grido di giustizia. Grazie.